di bello così eh chi è chi è Betty? Andrea di Novegro che vuole dire la sua sul calcio proviamo a sentirlo eh? Oh è un altro dei supereroi sentiamo dai. Uè capitano ciao Andrea Novegro. Ciao Andrea. Secondo me comunque la storia degli stadi conoscendo anche persone che frequentano attivamente non cambierà mai ci sono alcune fazioni che si odieranno sempre quindi purtroppo dico non succederà mai niente. L'unica cosa che mi dà fastidio è che magari questi personaggi qua fanno un macello della madonna e non gli succede niente. Io cazzo quando sono andato a Parigi l'anno scorso col mio amico Becco. Mica a momenti al Louvre ci legano perché ho toccato una cazzo di stato per fare una foto. Mica non ti dico il cinema. Mica come la tocco ma arriva una guardia tutta via saltata. Ma perché la devi toccare. Mica non ti capisco cazzo. Non ti capisco. Mi lega la me perché ho toccato una foto e se le metti vanno in giro tranquilli capisce? Certo. Bella lì certo. Non ti capisco gli diceva. Cioè si è attaccato a una a una statua al Louvre e gli diceva non ti capisco che sono fatto di male. Che sono fatto di male. a momenti lo leggo. È il numero uno. È mai così Andrea Novegano fa parte dei nostri supereroi di tutto esaurito. Non ti capisco. Da oggi diventa la mia parola d'ordine. Non ti capisco. Prima era non è importante adesso non ti capisco. non ti capisco. Capitano Andrea è il numero uno. Minchia non ti capisco. spiego. Balla. 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 Sa che naso ha il suo amico Becco. Sì voglio dire se lui Andrea di Novegano immaginatevi Becco. Dai 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 alza il volume perché. Il radio c'è. Il radio c'è. Il film bia. E' quello che c'è. Il film bia. Se è vero non smette di gridere. Mi piace troppo. Lo voglio. Secondo me anche a lui non dispiace tutto. No è una mia sensazione. E' una mia sensazione. Potreste fare grandi cose insieme. Anche con Becco. lo mettono in mezzo fra Becco e Andrea capitano Andrea Danovegro il suo amico Becco Totò e Peppino sto male da ridere Nando Pietro dice voglio una puntata con Andrea Danovegro live oi 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 ecco se vi devo dire io la sei bella l'abbiamo avuta Marco ti prego fallo risentire no dai poi è troppo è troppo ma Andrea lo si può proporre come Presidente del Consiglio del Mondo Fabio il Gelataro fantastico Andrea Danovegro farebbe tornare il buon umore a chiunque Andrea Danovegro l'Italia nel mondo non ti capisco adesso i francesi non ti capisco che minchia stai dicendo l'ha tutti compassati al museo e lui e Becco che si aggiraffano fortimi forse che in Francia ci odiano dopo Andrea Danovegro è normale vedi Andrea da Cassano Andrea anch'io me lo sono chiesto credimi Andrea Andrea da Cassano dice Marco ma la domanda è che cazzo ci sono andati a fare Andrea Becco al Louvre facevano i selfie con le staglie un'altra dice sto ridendo con le lacrime da sole in macchina minchia non ti capisco pensavano che fosse una discoteca al Louvre certo tanti tanti vogliono anche Becco chiamate anche Becco non possiamo perderci queste eccellenze volevo ricordare che la piramide del Louvre non è quella del Cocoricodre ma ci stanno ma ci stanno ma ci stanno ma ci stanno ma infatti ho visto le luci no vabbè allora